Ciao a tutti in questo video andremo a vedere come realizzare una copertura in cartongesso fai di a te. In questo caso l'ho realizzata per andare a coprire dei tubi vicino al soffitto. Dopo aver preso le misure del pezzo che dobbiamo coprire andiamo a tagliare il montante AC per cartongesso della misura che ci serve e a posizionarlo sul muro tramite dei normalissimi in doppia pressione. Dopo aver verificato che i due pezzi siano in bolla tra loro andiamo ad unirli con un traverso verticale tramite delle viti autoforanti. Andiamo perciò aiutandoci sempre con la bolla a tracciare e forare il soffitto per il montante sopra. In questo caso io ho trovato del ferro per cui ho optato per delle barre filettate del chimico per ancorare il montante a soffitto. Una volta completata la struttura di sostegno procediamo a tagliare il cartongesso alla misura desiderata utilizzando un taglierino. Procediamo dunque ad attaccare il cartongesso alla struttura usando le apposite viti autoforanti. Una volta fatto andiamo a chiudere tutte le fessure e i fori lasciati dalle viti con dello stuco. Aspettiamo poi che si secchi e grattiamolo con della carta vetrata per portarlo a livello. Se le fessure, soprattutto quelle vicino al muro, sono abbastanza larghe è consigliabile metterci all'interno della rete in maniera che lo stucco seccando non crepi. Una volta grattato e portato a livello tutto lo stucco, andiamo a pitturare. Se ti è piaciuto il video fammelo sapere e se sei interessato ad altri contenuti come questo o semplicemente vuoi seguire il canale, iscriviti. è gratis eh? Ciao!